Buongiorno, parliamo oggi di un argomento che mi sta molto a cuore, che è quello del fluoro. Ci scrive un paziente e dice, buongiorno dottore, ho un figlio di un anno e il pediatra mi ha consigliato di dargli il fluoro. Qual è il suo parere? Non vorrei dargli una cosa che non serve, io direi o peggio, dargli una cosa che può fargli male. Il fluoro si intende consigliato dai pediatri e da alcuni dentisti per risolvere il problema della carie. In realtà non c'è nessuna dimostrazione che dare fluoro faccia davvero bene alla carie, è incredibile ma è così. A distanza di 50 anni, ancora oggi la somministrazione sistemica del fluoro, cioè per bocca, non ha alcuna prova scientifica. Si fa perché si è fatto così senza conoscere i motivi per cui si fa. Non solo. Floro, bromo, iodio e cloro appartengono tutti alla stessa famiglia che cura di importanti veleni metabolici. Le faccio un esempio. L'acido ipocloritrico a forma lavarechina e l'acido ipocloritrico in concentrazioni bassissime ha un'azione biocida talmente forte che è in grado di disinfettare ampie superfici di pavimento. Quindi noi diamo un biocida in pastiglio, in gocce, ai nostri bambini nella presunzione che questo gli eviti la carie. Non c'è nessuna prova, mentre invece ci sono prove importanti che il fluoro, anche a dosi abbastanza basse, sia fortemente tossico per l'organismo. Lo è certamente per la fluorosi, in cui i denti si macchiano di colori bruttissimi fra il giallo e il verde. La fluorosi delle ossa, di cui sappiamo poco, ma sappiamo che le indebolisce. Addirittura abbiamo ragionevoli certezze nel pensare che il fluoro provochi retardo mentale nell'accrescimento. Sente quanti buoni motivi per non dare il fluoro al suo bambino. Il fluoro inoltre può essere somministrato anche per via locale con dentifrici o sostanze cosiddette sigillanti. In tal caso probabilmente efficace. Tenga presente però che i bambini tendono a ingoiare il fluoro quando si lavano i denti. Quindi bisogna sorvegliarli con attenzione. Anche perché fino all'età di 10-11 anni il bambino non è in grado di lavarsi i denti da solo. Semplicemente perché non ha sviluppato i meccanismi fini di movimento delle mani che gli consentono di lavarsi efficacemente i denti da solo. Quindi dovrà lavarli lei e stare attento che non ingoi il dentifricio. Io ricordo quando ero piccolo noi ne mangiavamo a quintali i dentifrici o d'altobetto. Per ridurre l'incidenza della carie lasciamo stare il fluoro. È molto importante lì generale. Quindi lavare i denti al suo bimbo già fin dall'inizio, non appena si presenteranno i primi dentini e accompagnarlo come dicevo fino all'età di 10 anni. Inoltre bisogna stare molto attenti a non utilizzare zuccheri cariogeni come il saccarosio. Bisogna che le eventuali caramelle o dolci che vogliamo darli contengono i dolcificanti non cariogeni. Molto interessante è l'oxiritolo che è uno zucchero che si produce dall'acero. Ha il difetto di essere caro ma ha il grosso vantaggio dell'essere addirittura protettivo nei confronti della carie. Quanto il fluoro se non di più e senza nessun effetto tossico. Io le consiglio davvero di informarsi con attenzione seguendo il nostro sito e se ha bisogno ci chieda pure Alte Delucidazioni attraverso Facebook. Le risponderemo presto e volentieri. Arrivederci.